Ciao a tutti e benvenuti su Azalea Channel in un nuovo episodio della Not So Berry Rosso Ed eccoci qui con la nostra Ruby che si sta esercitando nei discorsi davanti allo specchio perché deve raggiungere il livello 2 di carisma e l'abbiamo appena fatto, perfetto per infatti avere una promozione dobbiamo appunto arrivare al livello 2 ci siamo, altre cosettine che dobbiamo fare tra gli incarichi del giorno è quella di promuovere con successo la causa per cui approfittiamo del fatto che oggi a martedì lei non lavora per andare in giro a conoscere un po' di gente nuova e promuovere anche la causa con successo lei si è alzata già da un paio di orette perché la nostra Ruby è una tipa abbastanza mattiniera non le piace perdere tempo e quindi appena si sente riposata si alza e fa tutto quello che deve fare perché sapete che lei è una tipetta anche molto ambiziosa per cui direi che abbiamo mangiato, ci siamo sistemate, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare direi che ci vestiamo perché non possiamo uscire in pigiama, non mi pare proprio il caso e ci mettiamo questo abitino qua, anche se oggi fa un po' freschino però vorrei andare in un altro quartiere quindi non so come sarà il tempo lì oh guardate la nostra Ruby come si ammira allo specchio direi che possiamo andare in una caffetteria di Windenburg ad esempio questa qua, Caffè Piazza Sud così magari ci prendiamo anche noi una bella cioccolata calda o qualcosa di questo tipo visto che fa freschetto vediamo cosa possiamo ordinare di buono intanto guardate qua in vetrina mi viene fame a vedere queste cose ci ordiniamo qualcosa da consumare qui sul posto sì anche un caffettino un bel caffè macchiato dai mazza dodici simoleon però costa qui il caffè c'è anche un po' di gente perfetto vediamo un po' se troviamo degli ascoltatori intanto per la nostra causa facciamo un po' di presentazione qui intanto però non mi fa ordinare perché? ah ecco perché la mixologa ancora non aveva attaccato a lavorare ok adesso penso che ce lo faccia fare intanto continuiamo sempre oh ciao Daniel eccoli qua i nostri vicini di casa che la volta scorsa abbiamo potuto conoscere quando sono venuti a trovarci e ok adesso ordiniamo qui abbiamo anche un personaggio famoso ovvero eccolo qua Dirk oh no ragazzi l'ho scambiato per Dirk Sonidoro perché hanno praticamente lo stesso colore di pelle e taglio di capelli quindi l'ho scambiato per lui ma invece no è un semplice Baco Young che non è famoso quindi ce ne importa non ce ne importa più di tanto mi dispiace però magari possiamo farci amicizia perché più gente conosciamo e più possiamo promuovere la nostra causa d'altra parte la carriera politica è così ragazzi più gente conosciamo e meglio è intanto ci avverte che domani è la giornata del fitness per cui andremo sicuramente in palestra e intanto continuiamo qua a chiacchierare presentiamoci anche a lei Clara Bergen presentazione amichevole e portiamo così a termine gli incarichi del giorno oh cioè ragazzi questi due niente non ce la fanno a stare separati ecco qua mi sa che sta arrivando il nostro caffè finalmente guardate che bello a me piace un sacco questi dettagli proprio che da qua esce il caffè da qua c'è quello per mettere il latte fantastico oh finalmente abbiamo il nostro caffè macchiato per cui ce lo godiamo e intanto proviamo un po' a promuovere la causa con Clara io direi prima discutiamo degli interessi perché così cerchiamo un po' di capire le sue idee anche politiche in modo da facilitarci il compito intanto qua ci contattano perché Caleb Vadore si è messo a lavorare per i sani come pesci e ci vuole dare i regalari gli auricolari ma certo io direi che cose gratuite non si rifiutano mai a prescindere quindi Clara che cosa ci dici ti interessa e tu di politica dibattiamo di politica di sinistra e poi proviamo a promuovere la causa che lei tra l'altro Clara se non sbaglio è una tipa anche abbastanza benestante quindi la docchiamo perché potrebbe darci in futuro delle donazioni non indifferenti e ci siamo riusciti Clara ha ascoltato gli appassionanti proclami di rubi sulla causa e ne ha dato ispirazione per agire ok obiettivo del giorno raggiunto stiamo andando davvero alla grande a questo punto ragazzi se vi ricordate nell'episodio scorso io vi avevo chiesto di suggerirmi qualche idea per un club in cui potrebbe entrare rubi e la maggior parte di voi ha proposto lo stesso club a cui io personalmente non avevo pensato perché non vi ricordavo che ci fosse e in effetti è davvero perfetto per lei ovvero il club dei modelli effettivamente sembra fatto proprio su misura per lei quindi grazie per avermelo ricordato che esiste il club giusto quindi direi di provare ad entrare perché se non ricordo male il club dei modelli eccolo qua dobbiamo richiedere un invito quindi non è così facile entrare come avviene per molti altri club in cui entriamo così e siamo subito ammessi ma dobbiamo fare una bella impressione al leader e ai membri del club quindi ci sarà da lavorarci un po' e direi di farlo subito club dei modelli bisogna faticare per avere un aspetto così bello la perfezione non è facile ma tutti hanno bisogno di un esempio da seguire ecco perché abbiamo il club modelli e se andiamo a vedere le informazioni vediamo che Sioban è la leader e poi ci sono anche Sofia Sergio e Luna quindi composta da 4 persone e requisiti nessuno però appunto dobbiamo fare buona impressione su di loro per poter entrare attività del club bevi caffè usa interazioni perfide con i membri del club rinnegati giusto perché sono due club rivali quindi questo sarà divertente da fare e poi ovviamente prova degli abiti essendo un club dei modelli infatti vedete che anche i membri sono tutti abbastanza carucci che in The Sims non è così scontato come cosa ragazzi quindi vediamo un po' se riusciamo ad entrare richiediamo un invito ok Sioban ci sta contattando Ciao Ruby ho saputo che ti interessa entrare nel club modelli passa del tempo insieme a noi se ci farei una buona impressione potrai chiederci di entrare nel club andremo tutti qui torrente del bagnante la piscina è il modo migliore di trascorrere una calda giornata estiva raggiungici lì vuoi venire certamente anche se ah siamo in autunno però nonostante siamo in autunno e a Windenburg non fa così freddo quindi in piscina è perfetto ci sarò assolutamente per cui andiamo eccoci i membri del club sono arrivati e sono tutti in costume da bagno giustamente perché siamo in una piscina a questo punto anche io mi metto in costume così abbiamo tutti la divisa per così dire guardate quanto è carino il costume di Ruby fa con questo cappellone e questi occhialoni da diva proprio e quindi direi di iniziare a conoscerli vediamo un po' loro dove vanno al piano di sopra che se non sbaglio è il posto dove hanno proprio la sede del club infatti eccolo qua c'è la porta proprio con il simbolo del loro club l'unica cosa è che io non facendo parte del club mi sa che non posso entrare vediamo un po' posso entrare visto che sono momentaneamente in prova magari vediamo un po' o seppure dobbiamo fare un gruppetto e li facciamo uscire loro intanto si stanno già eh infatti non posso entrare ok allora creiamo un gruppo li facciamo uscire loro intanto si stanno provando dei vestiti così a casaccio ma modelli per cosa per lavorare in un circo va bene non ci facciamo domande ok sono riuscita ad entrare in realtà ho semplicemente cliccato sulla porta e fatto sblocca e facciamo finta quindi che si o banna ci ha tipo dato l'accesso al loro covo segreto perché appunto siamo in prova così possiamo entrare anche noi tranquillamente e io direi di presentarci proprio a si o banna e tenterei proprio di lavorarmi lei soprattutto perché è la leader del club quindi penso proprio che la sua parola sia quella che conti di più per far entrare nuovi membri quindi ci ostiamo di farci un pochino di amicizia ehm complimento sincero diciamo guarda costume bellissimo hai nonostante non ci azzecchi niente il colore di sopra con quello di sotto ma va benissimo lanciamo una nuova moda del vestirsi a buio ci va più che bene chiediamo anche un po' della sua carriera insomma dobbiamo comunque mostrarci interessate anche alla loro vita quello che fanno no? perché diventeranno i nostri colleghi di club discutiamo degli interessi allora si o banna è assistente di ufficio frazzo sfrutta truffa e bracca ah quindi no ragazzi avete colto l'ironia della cosa la nostra ruby promuove la causa a favore dell'associazione contro il crimine e lei lavora nel ramo del crimine benissimo non so se andremo molto d'accordo forse è il caso di tenere un attimo nascosta la causa che sosteniamo perché non mi sembra il caso di sbandirarlo così parliamo un po' del club dei modelli ma raccontaci sioban com'è deciso di creare questo club ovviamente ragazzi sioban resterà la leader ancora per poco tempo che cosa ve lo dico a fare perché la nostra ruby se riesce ad entrare penso proprio che cercheremo di spodestarla raccontiamo una barzelletta sui politici della serie tiriamoci la zappa sui piedi sono il leader del club dei modelli per me è fenomenale è certo tiriamo acqua al nostro mulino ma mi sembra normale raccontiamo una storia coinvolgente intanto mi piacerebbe fare amicizia anche con gli altri però se ne sono andati va bene intanto penso che basti basti fare amicizia con sioban quindi aumentiamolo ancora di più parliamo della temperatura calda si ma hai notato che nonostante sia autunno le temperature sono piuttosto miti però approfittiamo del fatto che qua ci sono anche gli altri membri vediamo un po' a che livello siamo arrivati con sioban vediamo che cosa ci dice la relazione siamo ancora conoscenti però abbiamo un buon livello di barra verde io quasi quasi ci proverei un attimino proviamo a chiedere di entrare vediamo se basta così o dobbiamo fare ancora altre cose sioban che ne pensi allora posso entrare in questo club che dici ok si ragazzi penso proprio che ci abbia risposto positivamente si stanno tutti battendo le mani congratulazioni ruby è stata accettata nel club modelli ok e ce l'abbiamo fatta adesso è felicissima cameratismo per essere ad un raduno del club ok direi di andarci però un attimo piano e non cercare di spodestare subito sioban andiamoci con calma magari nelle prossime volte ci troveremo perché ho cambiato colore di costume ah perché ci stiamo un po' provando gli abiti ok ma dai voglio farlo anche io questa cosa cambia abito di ah possiamo anche scegliere noi di cambiare gli abiti dei membri del nostro club ma ti sei vestita per andare a dormire mi sa che sioban ci sta insegnando la stretta segreta del club allora facciamo scegli abito e vediamo che cosa ne viene fuori ah e ci fa entrare nel cas ok allora indossiamo il nostro abito da festa così glielo facciamo vedere ai nostri colleghi e vediamo che cosa dicono se lo approvano secondo me si perché lei è fichissima vestita così ah peccato che vestendoci con l'abito da festa ci abbia dato lo stesso abito però in questi colori qua perché mi sa che la nostra sioban ha impostato come colori di abiti per quando si fa un raduno per il club questo colore qua sul rosino sul violino e quindi il gioco obbligatoriamente ti mette in divisa in un certo senso ed è una cosa che sicuramente cambierò quando diventerò la leader di questo club comunque direi che per adesso ci siamo divertiti abbastanza quindi terminiamo il raduno per oggi la prossima volta tenteremo di diventare noi la leader del club e visto che si è fatta quasi ora di scena e siamo a Windenburg ragazzi stavo pensando di andare a mangiare fuori e perché no possiamo invitare qualcuno che conosciamo in particolare la nostra Ruby stava pensando ad una persona ovvero dove dove eccolo qua Jay se vi ricordate l'abbiamo conosciuto nell'episodio scorso è un nostro vicino di casa e Ruby l'aveva un pochettino adocchiato diciamo così perché è abbastanza caruccio sembra anche simpatico e quindi magari visto che abbiamo scoperto che è anche single possiamo provare a chiedergli se vuole mangiare una cosa al volo così in un'osteria niente di impegnativo insieme a noi perché vi ricordo che la nostra Ruby ha l'aspirazione di romantica seriale quindi vuole avere un bel po' di relazioni romantiche ecco quindi direi che è il caso di darci da fare per cui inviamo un messaggino a Jay diciamo se ci raggiunge in un'osteria e ci vediamo lì e vediamo un po' come si dice ragazzi se sono rose fioriranno vediamo se Jay è libero ora gli mandiamo un messaggino whatsapp perché ci siamo scambiati i numeri l'altra volta anche con i nostri gli altri nostri vicini e facciamo che ecco qua fiduciosa quindi facciamo finta che Jay ci ha già risposto e ci ha detto che viene più che volentieri per cui andiamo io direi che quasi quasi la faccio rimanere anche vestita così perché sta veramente bene non è eccessivo come vestito da festa quindi può essere anche un'uscita semplice serale ci può stare ok è arrivato anche Jay quindi lo salutiamo chiediamo un po' come sta e magari condividiamo qualche foto dai gli raccontiamo anche che oggi abbiamo ricevuto l'invito per poter entrare nel club dei modelli e che quindi lei è molto contenta di questa cosa già sembra piuttosto divertito ok lui dai lo trova abbastanza carino impariamolo a conoscere vediamo se troviamo un posticino wow quanto è follato questo posto uh e si sono abbracciati di loro spontanea volontà perfetto sediamoci insieme qui tanto c'è la notte degli alieni qua in questo bar ma va bene vieni Jay dai sediamoci qua un po' appartati chiacchieriamo un pochino lontani dalla dalla Ressa e peccato che ci abbiamo il terzo incomodo di questa celebrità britannicio che cosa ci sta a fare in un'osteria di basso rangolo sa solo lei ma va bene eh ma c'hai qui mi sa che c'è veramente troppo troppa gente perché non ce ne andiamo tipo qua fuori vai qua perché altrimenti non riusciamo a combinare nulla c'ha guardati i paparazzi no veramente troppo caos ah vieni Jay dai chiacchieriamo un po' fuori che altrimenti non riusciamo neanche a capire cosa diciamo l'un l'altro intanto stiamo guadagnando buona reputazione non c'è esattamente il motivo però ci va benissimo ottimo e io a questo punto visto che siamo diventati amici ci facciamo un abbraccio e poi tenterei un po' con un flirt ma qualcosa di molto soft calcoliamo che tanto per capire se lui ci starebbe e mi sa proprio di sì ragazzi sapete la prima uscita no in cui magari c'è questi flirt molto leggeri per appunto capire un po' come la situazione ci facciamo una battutina di abbordarci ci facciamo anche una foto insieme perché no per vedere se c'è la possibilità di una futura seconda uscita e secondo me ci sta ci sta proprio alla grande no vabbè guardate lui cioè sembra che proprio penda dalle labbra di ruby flirtiamo un altro pochino e ah ok e lui se n'è andato giustamente perché a mezzanotte è passata però dai secondo me come prima uscita non era un appuntamento vero e proprio abbiamo un po' flirtato per vedere se lui poteva starci e mi sembra proprio di sì quindi a questo punto io direi che per oggi ci fermiamo qui con questo episodio abbiamo fatto diverse cosine perché abbiamo portato a termini gli incarichi per la promozione siamo entrati nel club dei modelli siamo usciti un po' con Gai per vedere che aria tirasse e nel prossimo episodio magari vediamo se riusciamo a uscirci in un vero e proprio appuntamento e a concludere qualcosa per oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto se è così mettete un like e scrivetemi sotto nei commenti che cosa ne pensate di ruby e di come si sta evolvendo la sua storia noi ci vediamo presto nei prossimi video ciao ciao